la giocata sull'auto di destra bello lo squillo di Berretta palla che si impenna Ponziani dopo un minuto una bomba che buca grasso Ponziani che sta facendo una stagione da sogno assegnato anche nell'ultima di campionato nel 4-1 contro il Casalotti suggerimento centrale è messo male il profino prosinone capovolgimento di fronte 1-1 in due minuti forestali che partita che inizio shock Fofi che allarga sull'auto di destra dove c'è Berretta che carica il destro decolla grasso non serve intervenire palla alta bello inizio di gara ovviamente divertente Chimenti l'ha recuperata buona fase di interdizione del prosinone Marini carica il sinistro Marini palo clamoroso di Marini prosinone che prova adesso a rimettere la freccia vince il rimpallo ancora Fardelli tocco di ritorno palla al centro di prima prolungata al volo gran gol di Briotti avanti l'Atletico Eur ma che partita è Fofi Fofi Chi menti allarga sull'auto di destra Frosinone che prova con la razionalità riprendere la partita Berretta con un lampo non trova la porta Chi menti forestali non lo tiene Chi menti allarga sull'auto di destra dove c'è Baldacci provano a centrarsi Baldacci con le unghie graffia il pallone grasso l'esterno flipper forestali a portare religione Pappatà è tutto solo messo male il Frosinone Pappatà svirgolata Pappatà la bandierina occhio a Felicio ai centimetri di Araimo che si è mossa al secondo palo eccolo il colpo di testa segna sempre Fardelli il secondo gol in stagione il secondo gol da calcio d'angolo vediamo chi andrà alla conclusione Fa Fofi forte decolla grasso che si fa una fotografia volando all'incrocio dei pali Fofi liftato al secondo palo Ponziani tutto solo non la riesce a togliere grasso doppietta di Ponziani che riapre l'incontro la palla sfila Lattanzio ha giocato di esperienza è andato via Amarini Lattanzio il miracolo di Milan la palla non esce rimane viva ancora Milan due volte chiude tutto il classe 2003 grasso alza il muro 4 in barriera per arginare il mancino di Ponziani parte Ponziani mancino dinamitico ha pareggiato il Frosinone tripletta di Ponziani che giocatore si riaccende la sfida fa Fofi e Grasso va Fofi Buca Grasso Buca Araimo ha passato in vantaggio il Frosinone Sciarappi Fardelli gran giocata di Fardelli è un ripallo è un flipper la ripresa l'Atletico Eur col cuore col coraggio Chimenti riesce ad andare via col guizzo Chimenti deviazione Ponziani Ponziani tocco morbido il tap in è di Fofi una partita folle l'ho già detto no è una partita folle male il tocco di ritorno Pappatà verso Forestali Forestali il diagonale ha un centimetro da pareggiare nuovamente la formazione di Ricciardi l'arbitro fischia tre volte finisce una partita folle ma bellissima vince il Frosinone che fa tre su tre come sono tre i gol di un infinito Marco Ponziani un saluto da Gabriele Cascella